Si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione con tutti i direttori generali delle ASLE e dell'azienda ospedaliere della Campania, in stretto raccordo con il Ministero della Salute. Dalla riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite a livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento. Dalla riunione è emersa innanzitutto una prima necessità, evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del coronavirus. La fotografia della situazione in Campania ad oggi è la seguente. Delle tre persone ricoverate al cotugno, due non risultano contagiate. Per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall'area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi. Per dare serenità ai nostri concittadini si comunica che è stata costituita una task force coordinata dal cotugno, che rimane l'ospedale di riferimento per casi rilevanti e non banali. In ogni asle e negli ospedali sono attive strutture in grado di verificare le condizioni reali del paziente. Si invita la popolazione a incrementare le vaccinazioni anti-influenzali, soprattutto in questo periodo, in cui si rischia di determinare un allarme ingiustificato con affluenze immotivate inutili nei pronto soccorso. Ogni informazione sarà canalizzata a livello regionale e si invitano i cittadini ad attenersi a queste sole informazioni, d'intesa e in stretta collaborazione con il Ministero della Salute.